lunedì alle ore 19 circa sul canale 5 parte il gioco dei nove che cos'è il gioco dei nove è un gioco che comunque io ho già questo vero e poi ogni sera ci sono nove ospiti grandissimi tutti 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 prestigiosi un giorno ci vengo anch'io come ospite quasi tutti prestigiosi saranno lunedì 19 circa sul canale 5 il gioco dei nove ah no momento venerdì alle 20 e 30 sempre su canale 5 c'è il gioco dei nove speciale serie a cosa c'è il gioco dei nove speciale serie a perché domenica comincia il campionato e allora noi facciamo il gioco dei nove speciale serie a alle 20 e 30 su canale 5 venerdì mentre lunedì 19 circa il gioco dei nove giorni giorni giorni